Ben ritrovati amici telespettatori di Cilento Channel, un nuovo appuntamento della nostra rubrica nutrizione e benessere. Siamo nel periodo pasquale e quindi in questo nostro appuntamento ci dedicheremo ai consigli per questi giorni festivi. La Pasqua a differenza del Natale ovviamente si caratterizza per due soli giorni festivi, quindi essenzialmente Pasqua e Pasquetta, a cui a differenza del Natale ci si dovrebbe arrivare anche un pochettino più leggeri dal punto di vista alimentare, considerando il periodo precedente della guarisima. Eppure non sempre è così, infatti molto spesso le statistiche ci dicono che anche in questo breve periodo festivo si possono arrivare a prendere anche fino a 3 kg. Quindi partendo dal presupposto che ovviamente è giusto e doveroso comunque onorare le feste e quindi concederci anche di assaggiare, di mangiare qualcosa di diverso laddove è possibile, tranne ovviamente in quei casi di patologie particolari in cui determinati soggetti non possono proprio consumare determinati alimenti. Però al di fuori di questo è bene sempre evitare, sia per chi è a dieta, sia per chi non lo è, eccessi alimentari particolari. Quindi vediamo un po' come vogliamo regolarci in questi giorni festivi. Partiamo dal giorno di Pasqua. Chiaramente possiamo iniziare il classico pranzo con un antipasto, magari di verdure grigliate, quindi condite con un ottimo olio extravergine di oliva e magari anche con un pezzetto del classico casetiello. Poi sicuramente un primo piatto che può variare a seconda delle tradizioni culinarie della zona o familiari e un secondo piatto accompagnato da verdure. Il secondo piatto generalmente è secondo tradizione di carne e quindi lo accompagniamo sempre con delle verdure cotte o crude. Al termine del pranzo ovviamente è immancabile la frutta sempre fresca di stagione e il dolce. Il dolce tradizionale del periodo pasquale, quindi al di là della pastiera, anche l'uovo o la colomba. Quale scegliere? Beh, sono sicuramente molto calorici entrambi. È bene soprattutto che siano però prodotti artigianali, soprattutto per quanto riguarda l'uovo, che sia un uovo di cioccolato fondente e che abbia un'ottima percentuale di pasta di cacao. Per quanto riguarda la colomba è appunto, come dicevamo, meglio artigianale, quindi non quelle commerciali, soprattutto se ricche di farciture e creme che aumentano, diciamo, inutilmente quello che è l'apporto calorico. Quindi fra i due magari sicuramente meglio un ottimo cioccolato fondente oppure una classica pastiera magari fatta in casa. Chiaramente dopo un pranzo così è giusto controbilanciare quello che è l'apporto calorico della giornata e quindi la sera a cena mantenesti leggeri in previsione anche del giorno dopo della Pasquetta e però evitando il digiuno proprio completo. Quindi o una semplice insalata oppure magari anche una tisana depurativa. A questo proposito è bene sempre bere molto acqua, evitare gli accolici, le bevande gassate, zuccherate, evitare durante i pasti di concedersi dei bis e in cucina di preparare quelle che sono le giuste quantità che andranno ad essere consumate per evitare che rimangano porzioni da consumare nei giorni successivi. Perché in effetti come abbiamo detto i giorni di festa vera e proprio sono solo due però molto spesso capita appunto che rimangono in casa non solo magari alimenti preparati e quindi poi da consumare nei giorni successivi ma anche dolci preparati o acquistati o regalati che rimangono in casa per parecchi giorni e quindi vanno consumate come le colombe e così via. Dicevamo del giorno di Pasquetta, beh quest'anno con la fine anche dello stato di emergenza sarà più facile anche muoversi e quindi concedersi la classica gita fuori porta che può essere anche un'occasione per muoversi di più quindi anche per fare una bella passeggiata a piedi o in bicicletta. Per quanto riguarda invece l'alimentazione di questo giorno direi che al di là della classica grigliata che possiamo, di carne o di pesce che possiamo sempre accompagnare con le verdure, possiamo consumare in alternativa anche un'insalata di pasta, di riso oppure delle uova sode con un'insalata e magari per chiudere il pezzetto di dolce e quindi magari la classica pastiera. Come detto nonostante questi accorgimenti in molti tendono a prendere peso in questo periodo festivo. L'importante comunque non scoraggiarsi e ripartire da una dieta equilibrata magari consigliata da un professionista per rientrare dei chili che si possono prendere all'interno di questo breve periodo pasquale e quindi rispondere all'aumento di peso con una dieta corretta, sana e la giusta attività fisica che non deve mai mancare. Bene, io vi rimando alla prossima settimana per un nuovo appuntamento della nostra rubrica, vi ricordo che potete approfondire le varie tematiche sul sito di Cilento Channel, sulla mia pagina Facebook dove troverete i vari articoli pubblicati e in attesa di rivederci la prossima settimana e invio a tutti voi, dagli spettatori di Cilento Channel, i miei migliori auguri di una buona e serena Pasqua. Ciao!